Non si sblocca la trattativa per il ritorno di Giuseppe Rizzo, non c'è infatti ancora il Placet della Triestina che deve trovare un sostituto, il sostituto del centrocampista siciliano classe 1991, c'è ancora fiducia però ad oggi non è stata ancora chiusa la trattativa con il club Giuliano. C'è il nodo poi Bussellato, come sapete tutti è in rotta con il tecnico e con il club, è stato messo ai margini, si allena a parte, soprattutto ha rifiutato Cosenza, solo nel caso in cui dovesse partire Bussellato potrebbe arrivare Derisio, Derisio che a lungo è stato inseguito dal club Biancazzurro. Per l'attacco l'obiettivo è quello di dare a Uteri una punta che possa ricoprire tutti e tre i ruoli del reparto avanzato, tra i profili individuati quello di Nicolás Pierini, ex Primavera Sassuolo, tre presenze in A, trascorse in B con Spezza, Cosenza e Ascoli, lo scorso anno sei mesi a Modena in CE con l'attuale DS del Pescara Luca Matteassi. In realtà Pierini è più un esterno tecnico veloce, si adatterebbe al ruolo di riferimento centrale, non è comunque un'operazione semplice al momento che il 23enne calciatore di Parma vorrebbe giocare in un club di B. Si parla anche di Pandolfi, classe 98 si è messo in evidenza lo scorso anno per i primi sei mesi nell'ultimo campionato di Serie C nella Turis, lo potrebbe acquistare la Sampdoria, Sampdoria che poi potrebbe girare questo promettente attaccante al Pescara, visti i buonissimi rapporti. Sapete tutti che il DS della Sampdoria qualche settimana è faggiano, che in ottimi rapporti appunto con Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. Le altre trattative, Beretta, Gabrielloni e Simeri non sono in uscita dai rispettivi club Cittadella, Como e Bari, impossibili Montalto e Corazza, Margiotta non scenderà in C, il ritorno di Melchiorri almeno per ora non viene preso in considerazione. Entro il 31 agosto, quando si chiuderà la sessione estiva di calciomercato, serviranno un difensore, due mediani e un attaccante.